Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 per la rassegna stampa di oggi. Occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno, lo vediamo insieme. Oggi è San Gilberto di Imeric, Vescovo, il sole è sorto alle 7.21 e tramonterà alle 17.23. Sole che chissà se oggi vedremo perché è coperto da tante nuvole, già di prima mattina, vedete questa è l'immagine della nostra webcam dell'Osservatorio Meteo di Fano TV che segna tra l'altro un 6 gradi e mezzo circa con un'umidità del 92%. Oggi sulla regione Marche è previsto cielo nuvoloso con qualche temporanea locale schiarita nelle ore centrali della giornata ma come vedete le temperature sono deboli diffuse nella prima parte della giornata in serata e invece deboli sporadiche durante le ore deboli e sporadiche. Il limite delle nevicate inizialmente attorno ai 900 metri in rialzo, intorno ai 1000 in serata per effetto di un aumento appunto anche se lieve delle temperature. Domani giovedì ecco che il tempo peggiora ancora di più con rovesci diffusi nei settori centro-settentrionali, in particolare quelli costieri, con cumulate a fine giornata moderate e localmente invece elevate. Fenomeni più deboli e sparsi sui settori centro-meridionali della regione. Il limite delle nevicate che appunto per oggi sarà intorno a 1000 metri andrà in calo fino a quota 600 sui settori interni a nord della regione, quindi nella nostra provincia. Temperature in diminuzione le massime, stazionarie o in lieve aumento le minime per venerdì 6 febbraio. Deboli diffuse precipitazioni nel settore settentrionale nella prima parte della giornata. Fenomeni sparsi altrove, limite delle nevicate attorno ai 900 metri. Per quanto riguarda i giorni successivi, ancora indicazioni di tempo instabile per il fine settimana con possibile miglioramento da metà della prossima settimana. Allora andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. Su Via Nolfi, a Fano, 250 firme per non morire. I pedoni hanno paura, le auto vanno troppo veloci, la strada è una trappola. Il resto del Carlino ha intervistato alcune persone, le vedete qui in queste fotografie, come per esempio Francesca Mancarelli che ha uno studio di parrucchieria. L'altro giorno dice un'anziana che stava uscendo, sempre ripeto, su Via Nolfi, è inciampata ed è caduta in mezzo alla strada. Qui la situazione è difficile, dice invece Beatrice, titolare di un caffè. Qui la situazione è difficile, non c'è rispetto per niente e per nessuno. Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino, si parla di teatro. Fondazione Teatro inizio anno con i bidoni, prima salta la Madame Butterfly, poi vanno in forse i concerti di mezzogiorno, la protesta del maestro Norris Borgoggelli che dice io avevo pronte tutte le date e anche preso degli accordi. Risponde la Presidente della Fondazione Catiamati che dice semplicemente non si sa su che cifre possiamo contare, visto che il bilancio latita. L'anno scorso i concerti del mezzogiorno sono costati solo 4.500 euro, budget diverso 1.200.000 euro il bilancio del 2014 della Fondazione Teatro. Piccolo intervento chirurgico, di nuovo quindi il sindaco di Fano Massimo Seri in ospedale, da ieri mattina è ricoverato in chirurgia a Santa Croce dove già fu ospitato alla fine di novembre. È il tempo di incontrare invece lunedì sera Sgarbi al centro con, lo vedete qui, Vittorio Sgarbi con Gambini, il sindaco di Urbino, appunto Seri e altre persone del comune tra cui anche il vice Marcheggiani. Cultura, l'asse Urbino-Pesaro in Globo a Fano, Seri, Sgarbi e Gambini riuniti in comune. Tra i temi affrontati il biglietto unico per la visita ai musei. Andiamo avanti, l'altra notizia da San Giorgio, la mossa del sindaco, Tari di Mezzatas e lavori per la comunità. Basterà fare un'attività comune e come pulire strade e curare il verde pubblico. Ladri scatenati a Montefeccino invece in due settimane fanno quattro furti nella stessa casa. Esasperata, la proprietaria ormai dice rinunciate ad andarci, avete preso tutto il possibile. Davvero povera esasperata. La provincia invece riapra subito la strada per il Petrano, avviata una raccolta di firme, sia percorribile se non nevica, sale la tensione, molti non possono raggiungere le proprietà, danni al turismo perché la meta è nota e ambita. Ancora ricorderete quell'uomo che si è barricato in casa perché aveva di fronte dall'altra parte dell'uscio l'ufficiale giudiziario, ha tentato anche di sparargli, poi per fortuna il suo fucile da caccia si è inceppato. Orsini è stata trovata una lettera d'addio, se ce l'ha sfratto mi ammazzo, ha scritto il dramma del pensionato, rimasto solo con un affitto di 800 euro. Il pensionato aveva cartucce nei cassetti e nelle tasche, quasi volesse sparare a lungo e essere certo di riuscire nel suo intento. I conti non tornavano dopo la morte della sorella, racconta il Carlino stamattina, non riusciva a pagare con soli 1.100 euro di entrate mensili. Apriamo il Corriere Adriatico. Da Fossombrone, sosta a pagamento, malumori e firme. Salgono a quota 400 i consensi alla petizione che chiede di diversificare le tariffe in corso Garibaldi. A Fano invece cultura l'ambizioso progetto di Sgarbi, blitz serale per incontrare seri, un programma da costruire insieme con tutti i centri del territorio. Bisogna ridefinire invece il perimetro delle acque balneari. Mascarin non basta, dice, la manutenzione dell'arzilla per evitare l'applicazione delle ordinanze anti-inquinamento anche in zone non interessate. Stiamo lavorando anche alla messa in efficienza del depuratore di Santa Maria dell'Arzilla. Poi l'avvocato Romoli, che ha guidato ASET, torna consulente del Comune, ha vinto il concorso bandito dell'amministrazione, all'ente costerà circa 70 mila euro all'anno. Catturare turisti non solo nel fine settimana, parliamo del Carnevale, il Carnevale che fa lavorare tutti quanti, ma i commercianti chiedono più eventi per allungare la festa. Si apre oggi la sfida degli otto pasticceri per caso. Al Caffè Centrale si affronteranno la 62enne pensionata Paola Conti, la 44enne impiegata Ramona Neri. Il verdetto sarà espresso da due giurie. Ancora dal Corriere Adriatico. Da Isola del Piano l'Unione rischia di andare in fumo. La delusione di Paolini che accusa Fossombrone di reticenza. Perso troppo tempo. E a Marotta invece si discute ancora del passaggio a livello. Il Sindaco Cavallo e Carloni ritentano ancora. Domani un'altra assemblea con i cittadini organizzata da Città Futura. Apriamo il messaggero. Scontro politico sull'Expo. Il governatore Spacca annuncia l'inserimento dell'azienda di Piero Guidi e accusa Ricci. Tutta la comunità dovrebbe essere coesa per l'evento come avvenne con Urbino. A centro pagina Lucia Nibali in Vaticano. Udienza con Papa Francesco. Oggi il pontefice incontra la giovane vittima dell'agguato con l'acido. Dalle pagine interne del messaggero andiamo subito sulla pagina di Fano. Bocciatura in arrivo per l'ex zuccherificio. Nella riunione della segreteria il PD ha confermato il no. Sorpresa serale in comune. Anche qui arriva Sgarbi. Il critico d'arte era accompagnato dal sindaco di Urbino dove è ora assessore. si profila una collaborazione. La cronaca. Rubano le slot di un bar, poi le aprono di nascosto. Hanno trasportato le macchinette in una casa disabitata con un furgone. E poi sotto alle falde del Climangiaro le centrali a biogas finiscono in tv, poi salta il consiglio regionale e la Fano Urbino slitta ancora. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di oggi. Grazie per averci seguito. Vi ricordo il telegiornale questa sera alle 20.30 e poi il nostro sito internet, il nostro portale sempre aggiornato all'indirizzo ocrianotizia.it dove potete sempre trovare le notizie dell'ultima ora. Buona giornata a tutti e arrivederci a domani. Grazie a tutti.